Ciao a tutti, sono Mattia De Rinaldi, ho 23 anni e sono di Varese. Dopo essermi laureato in scienze della comunicazione, da un anno sto studiando drammaturgia e scrittura teatrale all'Accademia di Teatro Paolo Grassi di Milano. La scrittura per me non è più un semplice passatempo, sta diventando la prospettiva di un lavoro futuro. È sicuramente un grande sogno che a tratto si omiglia un po' a una vera e propria lotta. Io sono convinto e spero tanto di potercela fare.